Cambia la musica in città, amplificatori accesi fino alle 23, dentro i bar sottofondo fino alle 2, patente a punti per i gestori e obbligo di pulizia nel raggio di 150 metri dal proprio locale. Queste le idee uscite dal primo confronto tra l'amministrazione Massaro e i gestori dei locali. Bisognava cambiare pagina rispetto alle ordinanze dell'amministrazione Prade e così è stato fatto. Stiamo cercando di proporre una soluzione alternativa che è quello di accorciare in qualche modo l'orario e cioè di spostare prevalentemente la parte degli intrattenimenti musicali sull'aperitivo piuttosto che non sul dopo cena. Noi vorremmo intornare un orario verso la musica fino alle 22.30, alle 23.00. Questa è l'ipotesi ma sulla carta ancora non c'è nulla. La delibera definitiva che farà per il mese di luglio in fase di prova ci sarà solo dopo il confronto con i cittadini. Martedì incontrerò i residenti per spiegare i termini della proposta in modo tale da fare sintesi anche di eventuali suggerimenti degli uni e degli altri e cercare di trovare il miglior metodo possibile per fare un'ordinanza. Ovviamente avrà carattere sperimentale, riguarderà solo il mese di luglio, vedremo come andrà a luglio e poi dopo cercheremo di riterrare in corso d'opera. Il Comune lascia più libertà ai gestori ma in cambio chiede responsabilità. Ogni barista dovrà infatti occuparsi della pulizia entro i 150 metri dal suo locale. Basta quindi con le bottiglie abbandonate o i cocci di vetro in strada. Si impegnino a tenere pulita l'area entro 100-150 metri dal loro locale e anche a cercare di disperdere poi dopo le persone che magari rimangono tutte insieme insomma fino a tarda ora e quindi creano confusione. Inoltre per i locali arriva la patente a punti. Dato che in tempi di crisi non è consigliabile penalizzare economicamente le attività, ecco l'idea, premiare i locali virtuosi, penalizzare chi sgarra. Questo tipo di proposta prevede il fatto che si possa suonare fino alle ore 23 ma prevede anche il fatto che tutti questi eventuali concerti possano essere fatti solo se ci si comporta bene. Chi si comporta male non avrà la possibilità di fare i concertini.